Assessore con delega al cimitero Giuseppe Speranza, novità importanti in arrivo a cominciare dal nuovo impianto idrico. Il nuovo impianto idrico al cimitero è stato sottoscritto in giunna dall'amministrazione Palomba e dal sottoscritto quale assessore a ramo circa qualche anno fa. Da alcuni giorni sono iniziati già i lavori per l'assessura del nuovo impianto idrico all'interno del cimitero perché avevamo seri problemi per perdite d'acqua, diffuso un po' in più luoghi, in più parti del cimitero, addirittura c'erano alcune fontanine che non erogavano proprio. Auspichiamo che con questo nuovo impianto questo problema sarà risolto e sicuramente per il bene della comunità siamo liti di dare questa notizia. Le novità riguardano anche la realizzazione di due ascensori. L'ufficio cimitero mi ha comunicato che la sovrintendenza ha approvato i progetti che avevamo in itinere per la realizzazione di due ascensori all'interno del nostro cimitero che saranno posti alle spalle della chiesa madre e serviranno per favorire l'ingresso di disabili, di anziani e naturalmente tutte le persone che non possono raggiungere la parte a valle, la parte sud del cimitero. Com'è il percorso? Si accederà da via del cimitero per poi procedere. Gli ascensori saranno posti nella parte retrostante la chiesa madre. Quindi da via San Giuseppe alle Paludi potranno salire attraverso l'ascensore che poi non è legato solo agli ascensori ma anche alle pedane sulle scale per chi purtroppo accede in carrozzella o accede con crucette. Quindi sarà un servizio veramente molto molto utile alla comunità. Tra le criticità che ci vengono segnalate è la presenza di numerosi gatti qui al cimitero. Bene, è notorio che all'interno del cimitero è presente una colonia felina che viene assistita da volontari che si preoccupano di approvvigionarli, si preoccupano anche di pulire, mi risulta, negli ultimi tempi perché effettivamente era diventata una situazione abbastanza insostenibile. Preciso però che la colonia felina è dichiarata a via del cimitero, non all'interno del cimitero. Ma noi non è che possiamo assicurare il non ingresso dei gatti all'interno del cimitero. Certamente con l'occasione per fare appello ai volontari di fare un po' più attenzione sulla pulizia degli escrementi, sulla pulizia anche delle stesse scodelle che spesso contengono acqua che può essere poi portatore di zanzare, eccetera, eccetera. Quindi questa è l'attenzione che chiediamo ai volontari. Quanto riguarda invece l'ampliamento dei complessi nicchiari? Credo che tra qualche settimana arriverà in giunta la delibera del progetto definitivo ed esecutivo dei lavori. Quindi auspichiamo in linea di massimo dopo Pasqua di poter iniziare anche i lavori perché la parte del cimitero nuovo verrà sempre a destra del vialone di via del cimitero e sicuramente potremo assicurare alla comunità anche questo servizio che è molto molto richiesto.